Carlo Piano, che nell'almanacco dell'architetto si è occupato soprattutto della sezione inerente ai viaggi fatti con il Papa Renzo Piano, architetto. Sì, sono una serie di 16 viaggi nei luoghi dove lui ha costruito, che noi affrontiamo in Mangolfiera. La Mangolfiera è un mezzo immaginario, naturalmente, che utilizziamo, ma è anche un mezzo sostenibile. Ecco, un mezzo sostenibile perché quella che è la fonte di ispirazione di questo almanacco e che pervade sia la sezione dei viaggi, ma soprattutto anche la sezione curata dai professori, riguarda la fragilità della terra. Quindi la sostenibilità, le energie pulite, il fatto che ci debba essere la consapevolezza che la terra non l'abbiamo trattata troppo bene, soprattutto negli ultimi 50 anni. Ecco, che quindi in qualche maniera l'architetto deve essere consapevole del fatto che le cose devono cambiare, che non c'è più spazio per poterla trattare così. Quindi si vede anche l'importanza del visitare il luogo per fare architettura, per capire la cultura, per vedere le caratteristiche del luogo, della popolazione. Sì, diciamo che ognuno di questi viaggi, soprattutto quando ricorda come nasce il progetto, nasce da una passeggiata sul luogo. Ma una passeggiata sul luogo perché il luogo è quello che deve dare dei suggerimenti, ecco, per quello che sarà il progetto, dei suggerimenti, delle costruzioni anche. Ecco, quello che lui fa è sempre fare una passeggiata, possibilmente da solo, sul luogo, guardarlo e pensarlo. Credo non abbia mai fatto uno schizzo, ecco, senza prima essere stato sul posto. Ogni progetto è stata un po' una sfida, quella più complicata, quella più difficile da risolvere tra la Nuova Caledonia, il Giappone. Bisogna chiederlo a lui, però io credo che la sfida più difficile sia stata quella del Boburg. Sì, è stata quella del Boburg perché si trattava di due architetti, trentenni, per di più uno italiano e uno inglese, che avevano vinto un concorso nel centro di Parigi, volendo fare una cosa che, da un certo punto di vista, cioè, devastante, perché in pratica era una serie di, un'astronave che atterrava proprio nel maretto. Cioè, a parte il fatto che lì veramente gli hanno fatto la guerra, tutta l'accademia francese, ancora lui mi raccontava, adesso lo dice, ma fino a 15 anni fa, quando lui non diceva ai tassisti che lo portavano che era il progettista del Boburg, perché sapeva che si sarebbe preso una serie di insulti. Ma poi ci sono su questo degli aneddoti anche interessanti, per esempio che le acciaierie francesi non avevano voluto fare le grandi travi del Boburg, nel senso che, dicevano che non era impossibile farli, no? E quindi erano state fatte dalla CUP, dai tedeschi della CUP, peraltro tenendo la cosa anche nascosta, perché i tedeschi della CUP erano quelli che avevano fatto i cannoni, che avevano bombardato Parigi, eravano negli anni 70, quindi, quanto, 25 anni prima, nonno molto prima, no? Insomma, quindi ci sono tutti questi aneddoti e credo che quella sia stata una sfida, cioè, tutto nasce da lì, ecco. Grazie a tutti.